Oggi voglio raccontarvi una storia. Nel 2018, o forse 2019, non ricordo bene, ricevetti un'email dal CEO, cioè l'amministratore delegato, di una società editrice inglese. Con questa email mi chiedeva se fossi disposto a vendere il mio blog dedicato alle criptovalute, cioè il bitcoin.onews, e mi offrì due bitcoin. Ora, io feci due calcoli. All'epoca un bitcoin aveva circa 9.000 dollari, quindi di fatto mi stava offrendo 18.000 dollari. Secondo una mia stima, all'epoca quel blog aveva un valore di mercato di circa 15.000 euro, quindi più o meno l'offerta era in linea, sembrava credibile, probabilmente avevano fatto i loro calcoli ed erano giunti a conclusioni simili alle mie, e quindi approfondì. Per prima cosa cercai informazioni su questa società editrice, e scoprì che avevano sede a Londra e si occupavano di libri. E questo già un po' mi fece sospettare che forse, insomma, c'era qualcosa di un po' strano. Oltretutto erano anche una società editrice nata relativamente da pochi anni, e pensare ad una società che in questo periodo storico si viene creata per operare, avere un'attività nel campo dei libri, sembra davvero particolarmente strano. Però, mi sono detto, magari si occupano di e-book. E allora cosa ho fatto? Gli ho risposto chiedendogli che cosa avrebbero voluto farne del mio blog, cioè perché volevano acquistarlo. E mi rispose che avevano intenzione di usarlo per promuovere un loro gioco online. Ora, che una società editrice che si occupa di libri, o e-book, produca e cerchi di promuovere un gioco online di loro proprietà, non lo so, sviluppato da loro, beh, veramente, qualche sospetto me lo sollevò. Ovvero, avevo paura che in realtà volessero comprare il mio blog per cercare di promuovere nei confronti dei miei follower una truffa o comunque qualche cosa di losco, di poco chiaro, di poco trasparente. E quindi, rifiutai. Ebbene, il tizio, dopo il mio primo rifiuto, insistette. Innanzitutto, mi propose tre bitcoin al posto di due. E io, di nuovo, rifiutai in modo secco, netto. A quel punto me ne propose cinque, e già i miei sospetti iniziavano ad aumentare perché sembravano avere un po' troppa facilità nell'offrire bitcoin. E, ad un mio ulteriore rifiuto, arrivò a offrirmene sette. Io poi, all'ultima offerta, quella dei sette bitcoin, non risposi più e smise di fare altre offerte, probabilmente perché aveva raggiunto il tento massimo e aveva capito che io non ero disposto a vendere il mio blog. Ebbene, quel gioco online, a me, risulta che non sia mai stato realizzato, mai stato emesso sul mercato. Quindi, probabilmente, ebbi ragione a rifiutare quell'offerta perché la conseguenza avrebbe potuto essere proprio un tentativo di truffare i miei follower. Tenete presente che, all'epoca, sette bitcoin valevano più di 60.000 dollari, al giorno d'oggi sarebbero più di 200.000 dollari. Io, però, probabilmente, se avessi accettato quell'offerta, in questo momento avrei una reputazione completamente distrutta e non potrei più fare quello che sto facendo. Ah, mentre ci sono, colgo l'occasione per parlarvi di un'altra cosa. Sappiate che, da quando ho attivato i super grazie sotto i miei video, voi potete in qualche modo suggerirmi, incentivarmi, a pubblicare determinati tipi di video rispetto ad altri, proprio facendo queste piccole donazioni sui video che vi interessano di più. Cioè, in altre parole, io molto probabilmente, se ci fossero dei video in particolare che ricevessero molti super grazie, sarei sicuramente molto incentivato a farne di più di quel tipo e quindi a farne di meno, magari, di quelli che invece, diciamo così, suscitano minori reazioni da questo punto di vista e quindi probabilmente un minore interesse. Quindi vi suggerisco di utilizzare i super grazie per, in qualche modo, segnalarmi quali sono stati i miei video che vi sono piaciuti di più e quindi, in qualche modo, suggerirmi di farne altri segni. Per tutto il resto, come al solito, ci vediamo su Twitter, vi metto il link in descrizione e vi ricordo che vi metto anche in descrizione il link del mio blog ilbitcoin.news. Un saluto, ciao!